Buongiorno Friuli, anche da parte della redazione sportiva, nell'ultima rassegna stampa del mese di marzo, oggi appunto giovedì 31 marzo, parleremo e tanto ovviamente di tutto quello che c'è da sapere sul calcio di Serie A, anche ancora qualche ultimo argomento che riguarda la nazionale, ma ovviamente il tema principale, e lo si vede anche dalla prima pagina del Messaggero Veneto, è Udinese Napoli, una marcia di avvicinamento che ormai procede alla grandissima. Una marcia di avvicinamento che troviamo anche in prima pagina verso Udinese Napoli, questo il titolo in taglio alto, Pozzo De Laurentiis, sfida tra due amici nemici, questo il rimando alle pagine interne, a pagina 51 per l'esaltezza, dove c'è il pezzo a firma di Pietro Oleotto, che ci spiega la vicinanza, la somiglianza e le differenze anche tra due amici nemici del calcio, così sono definiti. Gian Paolo Pozzo e Aurelio De Laurentiis, andiamo proprio nello specifico all'interno della pagina 51, che abbiamo poc'anzi menzionato, nominato, Pozzo e De Laurentiis, amici e nemici. Un titolo che riprende quello della prima pagina, tanti gli affari tra i due, a volte si dice decisi anche sullo yacht del produttore, ma qui gli azzurri non vincono dal 2007. Abbiamo analizzato insomma le difficoltà del Napoli negli ultimi anni, nell'uscire vincitori da Udine, ci sono riusciti solo nell'ultima volta quando c'era Reia in panchina, un friulano a battere la squadra friulana. Pozzo e De Laurentiis, gli intrecci non mancano, quelli agonistici sono anche positivi per l'udinese, il Napoli non vince al friuli da quel maledetto 5-0 del 2007, quando qui in panchina c'era Pasquale Marino e dietro la scrivania da Digi del Club Azzurro c'era l'altro Marino con trascorsi i bianconeri, quello più amato e ricordato con stima e un pizzico di nostalgia. Pierpaolo è stato senza dubbio lui il gancio per mettere in sintonia il patron bianconero per il quale ha lavorato dal 1997 al 2004 e il vulcanico produttore cinematografico conosciuto proprio lasciando Udine e dopo il tentativo di Pozzo di mettere le mani sul Napoli, reduce dal fallimento prima dell'avvento poi del produttore cinematografico Reglio De Laurentiis, che è stato protagonista della cavalcata proprio del Napoli dai piani bassi del calcio italiano fino ai vertici massimi del calcio italiano, ma anche di quello europeo, è un De Laurentiis a cui vanno ascritti tantissimi meriti di questa rinascita di una grande forza del calcio italiano. Proprio lui è il doppio ex Marino, quello striscione in curva e lo scudetto 1998, questo è il titolo del trafiletto a lui dedicato a Pierpaolo Marino, anche lui tra i tanti doppi ex della sfida. Da una parte l'udinese di Giampaolo Pozzo, quella del 98, quando parola sua gli fu sfilato un tricolore finito sulle maglie bianconele sbagliate, dall'altra il Napoli che lui ricostruì per De Laurentiis. Dopo aver detto addio al Friuli, Pierpaolo Marino ha lasciato ieri una lunga intervista a Il Roma sulla prossima sfida di campionato, l'occasione per ricordare quello 0-5 del 2 settembre del 2007, che all'ombra dell'arco dei Rizzi celebrò la prima vittoria al ritorno in A del Club Azzurro dopo il fallimento e la scalata delle serie minori. Fu una bellissima giornata, nei giorni precedenti ero stato molto criticato per aver presentato un Napoli molto giovane al ritorno in Serie A, proprio con l'udinese, avevamo la squadra più giovani, e li ricordavamo? Era un Napoli che poi si godeva le prime prodezze di Ezechiel Lavezzi, che sembrava essere un flop dopo la prima giornata di campionato, c'era un giovanissimo Gargano, c'era la rivelazione del campionato di Serie B, Mare Kamsik, che poi tutti abbiamo conosciuto, scovato proprio nel Brescia, dove aveva fatto dei grandissimi campionati, ma c'erano anche il Zalageta, così come anche il nostro Maurizio Domizzi, era un Napoli che si affacciava per le prime volte in Serie A, costruito da Pierpaolo Marino, che aveva ricevuto critiche, ma poi proprio con quella vittoria ebbe il lancio verso le grandi conquiste che poi ha avuto, e però ricordiamo, quella è rimasta l'ultima vittoria della formazione partenopea, proprio qui a Udine, ancora torniamo sull'accostamento tra i due numeri uno della società, Gian Paolo Pozzo, nato a Udine il 25 maggio 1941, imprenditore, già è titolare della Freud fino al 2008 e della Casals fino al 2009, controlla con la famiglia l'Udinese Calcio, il Granada Club del Football e il Watford Football Club, quindi Italia, Spagna e Inghilterra, queste le ramificazioni per così dire della famiglia Pozzo. Dall'altra parte c'è Aurelio De Laurentiis, nato a Roma il 1949, è la data di nascita, non me ne voglio Aurelio De Laurentiis ma l'ho dimenticata perché la pagina è sfuggita via, eccola qua. Nato a Roma il 24 maggio, quindi insomma anche una data molto molto vicina, sebbene con qualche anno di differenza, produttore cinematografico, titolare della Filmauro, presidente del Napoli, consigliere della Lega Serie A, un presidente che spesso definiamo istrionico, vulcanico ma con le idee ben chiare, insomma è uno di quei presidenti che coltiva il sogno di una Serie A che poi vada a comporre, a creare quello che è un super campionato europeo, quella che è stata un'idea spesso percorsa. Ieri sono arrivate notizie, vedremo poi anche sui nazionali che ci hanno fatto sorridere, oggi devono rientrare tutti, gli ultimi attesi sono Alex Meret e Ivan Pili, Smeret protagonista con la Nazionale Azzurra ma lo vedremo, notizia di ieri sono anche i posticipi e gli anticipi delle ultime giornate di campionato e c'è uno spostamento e un anticipo per l'Udinese perché Udinese Torino si giocherà sabato 30 aprile, sarà l'anticipo delle 18, si giocherà in anticipo una delle partite chiave, forse una delle più delicate sulla strada della salvezza dell'Udinese, la Lega Serie A infatti ha deciso ieri che la sfida casalinga col Torino sarà disputata sabato 30 maggio alle 18, primo anticipo di una giornata che vivrà anche Chievo-Fiorentina alle 20.30, poi il resto della giornata divisa tra domenica 1 maggio con Juventus-Carpi alle 12.30, Lazio-Inter alle 20.30 e lunedì 2 quando si disputeranno Genoa-Roma e Napoli-Atalanta, via via ovviamente tutte le altre, il resto delle giornate non riguarderanno da vicino l'Udinese che però come abbiamo detto si giocherà molto della sua salvezza, noi ovviamente speriamo che nel momento della giornata contro il Torino l'Udinese avrà già comunque un po' messo in ghiaccio la questione salvezza ma è pur vero che dovremmo essere intorno alla 35esima giornata con Udinese-Torino, si sa che potrebbe essere una partita delicata, l'anticipo alle 18 spesso confonde i piani però questa è comunque la decisione della Lega con un calendario per l'Udinese che va affrontato ovviamente a petto in fuori, a testa alta, qualsiasi sia l'avversario, messaggio che tempo fa ci lanciò proprio in esclusiva Gino Pozzo che ovviamente tutta la squadra ha recepito e anche che dovrà recepire nella partita contro il Napoli che sulla carta, se non l'impegno più difficile del campionato, visti i valori nella classifica, è il secondo impegno più difficile del campionato quindi bisogna sempre mettercela tutta e provare a vincere chi vuole provare a fare risultato è De Canio che ha una sua tattica ovviamente scherzosa De Canio scherza, metto due tira davanti alla porta perché forse uno non basta queste le parole del tecnico ieri a Premium se vincessimo però non saremmo salvi e se perdessimo non saremmo retrocessi questa è la chiave di lettura data da De Canio ieri proprio live ai colleghi di Mediaset Premium perché effettivamente caricare di eccessive tensioni una partita contro il Napoli può solo essere controproducente quindi non la carica né di tensioni negative né di tensioni positive il mister Gigi De Canio che anche in uno scambio di messaggi telefonici con il giornalista napoletano Umberto Chiariello intervistato da Radio CRC il tecnico ha promesso di sistemare non un pullman davanti alla porta ma due tir insomma non si aspetta una gara da giocare a viso aperto il Decca che è i microfoni di Mediaset Premium ha dichiarato appunto come dicevamo prima se vinciamo comunque non siamo salvi, se perdiamo non siamo retrocessi la salvezza dobbiamo guadagnarcela domenica dopo domenica l'immediato può dire poco queste le parole di De Canio ieri nel TG abbiamo letto l'intervista a Pietro Lomonaco che conosce bene De Canio ha detto sicuramente starà preparando una partita difensiva perché sa che con il Napoli non si può scherzare e un po' gli ha dato ragione ma poi sappiamo che la sorpresa la domenica è dietro l'angolo magari l'udinese ci sorprenderà altri elementi intervistati qua e là nella giornata dedicata live proprio a Mediaset Premium il giocatore in prestito Zapata ha detto io faccio bene qui a Udine e ritorno a Napoli per giocarmi il posto da titolare è stato molto saggio Duman Zapata a scegliere una piazza come Udine ovviamente e tra l'altro il senno di poi come poche volte lo ha premiato perché stare all'ombra di Higuain non è mai facile tra l'altro soprattutto in questa stagione in cui l'argentino sembra aver trovato una continuità mostruosa vuole fare bene a Udine e davvero già dalla mix zone contro il Sassuolo mancavano ancora due settimane alla partita l'abbiamo sentito carico come non mai pronto a fare grandissime cose pronto a dare un dispiacere alla sua ex squadra come dall'altra parte ci saranno anche altri ex pronti a dire la loro il DS è già retta abbiamo bisogno di punti ma serve la grande prestazione per un risultato positivo per quanto riguarda proprio Udinese e Napoli magari più tardi sentiamo proprio quelle che sono le parole del direttore sportivo bianconero che ha parlato anche ai nostri microfoni perché abbiamo parlato di ex Zapata ci viene in mente ovviamente il più fresco di tutti Allan ma non è un asse che è mai stato freddo quello tra Udine e Napoli a livelli di mercato sempre nell'ambito dell'obiettivo salvezza come dice il messaggero Veneto e proprio lui a comunque essere scelto come icona di questo articolo Allan che è stato ceduto al Napoli la scorsa estate per 11 milioni e mezzo di euro più aggiungiamo ovviamente il prestito biennale di Duvan Zapata Udinese-Napoli storia di un asse di mercato sono 25 gli scambi il primo fu Bocchetti nel 52 gli ultimi proprio Zapata e Allan abbiamo poi Inler e Quagliarella i giocatori più cari sono costati cash 18 milioni l'uno Quagliarella che comunque quando è stato venduto era assolutamente uno degli attaccanti più promettenti più forti dell'intero panorama italiano quindi un prezzo assolutamente giusto quello che è stato fatto nella transazione tra Udinese e Napoli sono 25 in pratica la rosa di una squadra tanti sono i giocatori che Udinese e Napoli si sono palleggiati durante il mercato nella loro storia se ci limitiamo alla gestione dell'Aurentis Pozzo sono 8 mica pochi considerando che il presidente partenopeo è in plancia di comando da una decina di anni la media si fa da sé quasi un giocatore all'anno scambiato tra Udinese e Napoli quindi che abbia fatto la tratta Udine-Napoli o viceversa Armero è l'unico giocatore che in questa lista è stato ceduto in prestito da Pozzo e che De Laurenti non ha riscattato Milan e Flamengo le altre due squadre prima di tornare alla base per Pablo Armero che si candida ovviamente a un ruolo da titolare nella partita contro la sua ex squadra senza andare troppo indietro nel tempo noi ci ricordiamo di Milan Udinese da ex fu accolto un po' freddamente Armero segnò un gol importantissimo qualche mese fa e quindi speriamo che possa magari essere la stessa storia nella prossima domenica un grande affare da parte dei Pozzo l'acquisto di Marekian Kuloski da Napoli arrivarono anche due portieri campioni d'Italia prima Garella e poi il povero Giuliani questo per quanto riguarda altri giocatori che sono passati da Udinese a Napoli e viceversa eccoli qua li andiamo proprio a riepilogare grazie alla tabella del messaggero Veneto tutti gli affari dall'Udinese al Napoli Claudio Pellegrini Andrea Carnevale insomma come dimenticarlo Fausto Pizzi Fabio Rossitto Maurizio Pineda Montezine Carlos Pavon Olivier Renard Fabio Quagliarella Gokan Inler Andrea Mazzarani Pablo Armero e ultimo appunto Marquez Lorero Allan in asterisco abbiamo i prestiti Armero, Mazzarani, Renard e Pineda questi sono passati ovviamente dall'Udinese al Napoli un po' meno quelli che hanno fatto il tragitto inverso da Bacchetti come abbiamo detto nel 52 Attilio Tesser nell'80 Bertoni, Caffarelli poi Garella come menzionato nell'articolo Giuliano Giuliani portiere nel 90 Salvatore Matrecano nel 95 Jan Kulowski nel 2002 Maurizio Domizzi che abbiamo nominato prima nel 2008 Germán Denis nel 2010 ultimo in prestito con l'asterisco l'unico di questa lista con l'asterisco Duvan Zapata in prestito biennale proprio all'Udinese un giocatore che sta ritrovando la forma migliore 6 gol in campionato considerandolo stop di quasi 4 mesi insomma di 3 mesi abbondanti per Duvan Zapata nulla di cui lamentarsi anzi un ruolino di marcia più che mai buono per Duvan che vuole continuare a segnare dopo la rete è messa a referto proprio nella gara del Mappai Stadium l'ultima partita di campionato giocata prima della sosta pasquale ieri c'è stato poi il primo allenamento all'ora di pranzo che abbiamo ovviamente seguito per voi come seguiremo quello di oggi Herto solo un affaticamento quindi nulla di grave per il giocatore francese che dovrebbe esserci i nazionali sono arrivati quasi tutti ora attendiamo solo Piris ma la cosa più importante è che nessuno di loro ha segnalato problematiche di ordine fisico questo è stato uno dei concetti espressi proprio da Cristiano Giaretta durante la nostra intervista Herto poi comunque viene detto su quanto riguarda quest'articolo che non è un infortunio che possa preoccupare potrebbe esserci e dovrebbe esserci nella partita contro il Napoli a presidio della difesa prima di passare al grande pugno di Merette che salva la festa azzurra vediamo proprio sentiamo quelle che sono state le parole del direttore sportivo Cristiano Giaretta che ci ha parlato proprio di tante tematiche e anche su possibili sorprese su come potrà finire Udinese Napoli sentiamo direttamente dai campi di allenamento direttore per commentare questa marcia di avvicinamento in una partita forse una delle più difficili del campionato com'è l'ambiente come vede i ragazzi insomma li sto vedendo bene stanno lavorando molto bene anche la settimana di sosta è servita sicuramente all'allenatore per integrarsi in maniera importante con i singoli giocatori interagire con loro capire al meglio le caratteristiche di ognuno di loro abbiamo concluso con una minchievole che è stata una buonissima sgambata per completare una settimana di allenamento di un certo tipo e adesso stiamo preparando la gara con il Napoli una settimana condizionata inevitabilmente dall'assenza dei nazionali sia per quanto riguarda l'Udinese ma anche per quanto riguarda il Napoli ovviamente tanti ragazzi in giro per il mondo questo è un motivo di vanto però poi un po' condizionare l'allenamento insomma sì però di base è un motivo di vanto perché avere 11 nazionali nella rosa dell'Udinese è una cosa molto molto importante vuol dire che ci sono giocatori di assoluto valore è una cosa un tema nel quale siamo molto molto convinti la stagione sta andando in un certo modo però insomma sono certo che con questi ragazzi il valore per qualcuno di loro saputo non è ancora stato espresso al 100% arriveremo all'obiettivo minimo con molta fatica perché chiaramente di questo stiamo parlando però insomma adesso stanno rientrando tutti giovedì domani quindi ci sarà l'ultimo rientro da parte di Piris oggi arriveranno la maggior parte di loro qualcuno già rientrato noi due croati Perizza e Nebalice sono già al lavoro quindi ecco bene abbiamo visto anche una leggera corsa per Bruno Fernandez è arrivato proprio adesso anche lui è una delle maggiori novità della nuova Udinese di De Canio questo ruolo da trequartista visto che De Canio valorizza molto i trequartisti potrebbe essere per lui una cosa molto buona sì la storia di De Canio parla di questo l'ultimo qui all'Udinese tanto per fare un passo indietro è stato Locatelli che lui ha saputo utilizzare benissimo in quel ruolo e Bruno Fernandez lo sa fare molto bene quindi il mister vede in lui certe caratteristiche e ben vengono comunque nella gara a Sassuolo ha già fatto molto bene ma d'altronde è uno che si integra bene in questo tipo di di posizione perché corre parecchio ha la qualità per determinare l'ultimo passaggio in funzione di una rete ma soprattutto aspettiamo anche le reti di Bruno Fernandez stesso che giocando un pochino più avanti insomma qualcosa ci deve dare l'ultima considerazione proprio sulla gara Napoli ovviamente è una salita impervia però quali sono i punti deboli si può battere con un grande atteggiamento ci vuole la partita perfetta per così dire sì ma non è invincibile insomma dobbiamo essere certi delle nostre caratteristiche delle nostre qualità giochiamo in casa abbiamo il dovere di mettere veramente in campo il mille per mille dobbiamo lottare ogni pallone essere determinati e concentrati in tutto e ce la giochiamo ecco non è scritto da nessuna parte che il Napoli debba vincere contro l'Udinese ma ci sta che anche l'Udinese vinca contro il Napoli dobbiamo essere certi del nostro valore i ragazzi sanno bene come devono comportarsi il mister sta lavorando molto sulle direttive tattiche soprattutto in queste ultime due settimane quindi non è un risultato per nulla scontato e chiaramente sono punti che a noi sarebbero tantissimo messaggio chiaro l'Udinese ovviamente darà battaglia contro il Napoli messaggio chiaro anche sul rientro dei nazionali l'ultimo in ordine cronologico sarà Piris ma anche Alex Meret atteso nella giornata di oggi a Udine dopo il comunque storico traguardo raggiunto dall'Under-19 che ha anche la sua firma brividi il pugno di Meret salva la festa azzurra Under-19 agli europei col portiere friulano decisivo all'ultimo minuto anche Coppolaro registrato tra i migliori per lui anche un gol contro Israele finisce 2-2 con i turchi l'Italia alla fase finale dove dovrebbe esserci posto oppure per Pontisso c'è quindi la firma proprio di Alex Meret come ci sottolinea l'articolo del messaggero Veneto sulla storica qualificazione europeo di categoria ottenuta ieri dall'Italia Under-19 prima classificata nel gruppo 2 della fase elite dopo il 2-2 da brividi con la Turchia e se gli azzurrini guidati dal CT Paolo Vanori potranno giocarsi il titolo di categoria molto merito sarà proprio dei giocatori dell'Udinese e soprattutto di Alex Meret uno dei prodotti della cantera bianconera a proposito di giovani ieri c'è stata la finale del torneo di Viareggio la Juventus vince contro il Palermo 3-2 e Allegri applaude con un tweet alzare trofei da ragazzi è importante vincere aiuta a vincere specie se si gioca bene bravi questo è il commento di Allegri per la squadra allenata da Fabio Grosso che ha vinto il torneo di Viareggio velocemente qualche tematica relativa anche alla nazionale sul post doppio impegno per gli azzurri processo azzurro dopo il K.O. di Monaco un'Italia da sprofondo rosso ecco come può risorgere difesa imbarazzante ricambi inesistente via del gol perduta tre fronti aperti per il CT va pesante giù la critica nei confronti dell'Italia nonostante a Udine proprio contro la Spagna avesse fatto vedere delle cose abbastanza buone ci sono le certezze Gianluigi Buffon esperienza e classe Andrea Barzagli che è mancato per infortunio in queste certezze in queste due partite ma lui ha una delle certezze in difesa Verratti e Marchisio anche loro assenti in questa tre giorni azzurra il cervello del Paris Saint Germain ha piedi e pensieri mentre lo Juventino ha dinamismo e visione di gioco con loro il centrocampo sale di qualità mentre con Montolivo e Tiago Motta non è sembrato averne Candreva in signe Barlumi di classe davanti Laziale l'usato sicuro magari senza cuti ma dal rendimento certo mentre lo Scugnizzo è forse l'azzurro con i maggiori mezzi tecnici le incertezze invece si parte con Tiago Motta e Montolivo due movioli in campo proprio nella foto in cui si ironizza sulle lenti a contatto Darmian e Ranocchia difensori non di rango anche se su Darmian mi permetto di non essere completamente d'accordo Giaccherini e Florenzi penalizzati se fuori ruolo anche se hanno dimostrato comunque di essere molto duttili e malleabili è un'incertezza anche anzi una possibile scommessa Federico Bernardeschi la qualità c'è è l'ultimo prezioso estratto dal quasi esaurito giacimento italiano di talenti Stefano Ilciarawi che ha brindato anche con il gol alla Germania si candida per un ruolo da titolare e poi un'altra scommessa potrebbe essere Gigio Donnarumma anticipiamo il futuro un minorenne di grandi qualità potrebbe essere utile in una gita da terzo portiere per fare esperienza questa è una tematica che si ripete spesso si era ripetuta anche proprio nello scorso mondiale con Simone Scuffette vedremo cosa sceglierà di fare Antonio Conte da Bergomi un salvagente a Conte dal campione del mondo ex campione del mondo altra musica con i tre punti in palio questa l'analisi proprio del commentatore di Sky Sport c'è spazio anche per il basket Pascolo Superstar il brutto Anatroccolo è diventato Cigno calze lunghe poco stile il Friulano ora è una stella d'Europa due ex coach di Udine lo incolonano dopo le imprese di Trento è davvero un Pascolo da sogno con Sacchetti meno Sacchetti che dice questo ragazzo sa giocare a basket molto bene ed è già pronto per un top team poi c'è Cavina che dice l'ultima prova di come il Friuli produca grandi giocatori la sua etica del lavoro è unica e poi c'è anche il commento di Mikalic prima o poi lo riporteremo a Udine lui è il simbolo della nostra pallacanestro è un appuntamento che ci segniamo sul taccuino sarebbe davvero molto molto bello vedere Dada tornare a giocare qui a Udine poi anche una notizia veloce sul Pordenone la polemica di Filippini che dice non sono grasso e da sabato torno a fare gol l'attaccante del Pordenone scherza sulla battuta di Lovisa non vivo per segnare ma adesso sto di nuovo bene voglio superare Decenco che in gennaio è passato al Trapani e poi sulla polemica palloni spariti ad Alessandria la società stangata non ci sta abbiamo dato spazio e commentato insieme ieri nel TG Sportivo proprio il comunicato ufficiale del Pordenone che critica insomma esprime la propria posizione in merito alla stangata del giudice sportivo in particolare contro Tedino e contro proprio il presidente Lovisa chiudiamo con le prime pagine dei maggiori quotidiani nazionali Ibra Boom c'è Raiola che vuota il sacco alla Gazzetta anche Inter Mila e Napoli all'assalto insomma quando parla lui c'è sempre una grande operazione alle spalle Zlatan ringiovanisce con gli anni per Donna Rum vedrò Galliani Pogba può restare a Torino ma ancora Mkhitaryan e Lukaku la Juve c'è e insomma nomi che ci fanno capire quanto gli assistiti di Raiola siano di grande livello e comunque c'è corsa in Europa per accaparrarseli c'è anche spazio per la festa della Gazzetta 120 anni festeggiati ieri sera in scena il nostro compleanno con Bisio un cast di campioni che si vedono qui da Cordoba a Lippi passando per tantissimi campioni meno tre domenica in edicola la Gazzetta verde per festeggiare proprio questo storico traguardo a cui comunque facciamo i complimenti è sempre Juve vince il Viareggio ed è già nel futuro la capolista Buffon io ultimo romantico altri due anni e faccio il CT l'inseguitrice è Amsic che alza la cresta Sarri Grazie ora ci crediamo Amsic che tra l'altro ha vinto per così dire il pallone d'oro slovacco per la quinta volta nella sua carriera ma si sa è probabilmente il giocatore più forte del paese processo Italia ma non tutto è da buttare anche la Gazzetta Stanga Conte ma non fino in fondo poi abbiamo le storie e i personaggi da non perdere Speleta ha affrodato il fisco spagnolo MotoGP il boss è nei guai sempre Moto In Viani Super Sprint alla tre giorni di La Pan si inchina pure Kittel e Rosolino la nuova sfida dopo 20 anni di giochi mi tuffo nell'Ironman una delle sfide sportive più difficili in assoluto il triathlon versione Ironman e Rosolino ci vuole provare sul nuoto sarà messo sicuramente benissimo poi bisogna vedere in bici e sulla corsa poi Infinita Juve sul Corriere dello Sport non è tutto sport anche il Viareggio i bianconeri ipotecano il futuro questo è un titolo che ci sta tutto i ragazzi di Grosso hanno battuto il Palermo e conquistato la Coppa per la nonna volta c'è poi in taglio alto Touré che chiama l'Inter non vuole stare con Guardiola e Mancini è la sua prima scelta poi in spalla show con la Bolivia ora anche l'Argentina in corona Higuain uscito tra gli applausi ritorno a Napoli ancora più carico insomma queste sono parole che non ci fanno piacere però si sa se si vuole provare a fermare il Napoli bisogna prima di tutto fermare lui Formula 1 così la Ferrari va all'attacco delle Mercedes MotoGP alla scoperta di Vinales il pupillo di Vale e domani con il Miami Football Club Nesta debutta in panchina e subito esce allo scoperto dicendo vinco subito infine l'Under 19 che ovviamente è agli europei che impresa con la firma anche di Alex Meret e poi la leggenda di Rivera alla mia vita do un 10 sono un uomo felice ho fatto ciò che volevo Rivera che è stato recentemente ospite anche della nostra clubhouse e infine questa volta si è tutto sport che vede invece più gli aspetti negativi della sosta che nuoce alla salute Bonucci niente di grave ma la Juve prepara lo sprint finale con Napoli nessuna lesione per il difensore ma ci sono tanti giocatori tornati acciaccati ed affaticati poi intervista Gomis il portiere del Cesena Toro torno per giocarmela poi parla anche Paletta Donadoni CT io tifo per lui perché se lo merita secondo l'argentino Gabriel Paletta Italo Argentino ovviamente anche lui uno degli oriundi poi lo Juventino del Como sognando Ibra e Lewandowski non sono più il figlio di Gans parla Gans Junior promesso sposo prossimo futuro acquisto della Juventus Brasile è crisi oggi sarebbe escluso dai mondiali e questa è una tematica davvero delicata per il calcio verde oro Montano e la Di Francisca noi due nonnetti a Rio parlano gli assi della scherma azzurra già in clima olimpico e poi per Valentino e la Ferrari è l'ora del primo esame l'ultima notizia riguarda conti fuori controllo mercato stop in vigore dalla prossima stagione le sanzioni sulle iscrizioni Milan, Inter, Roma, Genoa e Lazio sono sotto osservazione questo un possibile allarme per tutto il calcio italiano ed era anche contestualmente l'ultima notizia della nostra rassegna stampa sportiva che si chiude qui a me non resta che augurarvi una buona giornata in nostra compagnia e lasciare la linea all'ora del dia grazie a tutti grazie a tutti